Questo è uno dei punti più controversi, perché non tutti neanche, non tutti i battizzati sono chiamati a questo battiglio dei mani. Ma Gesù sceglie alcune armi che sono veramente molto poche, ma di grande spessore d'aiuto per la salvezza del mondo, sceglie che dopo la forza delle armi di rispondere a questa chiamata della condivisione della sua passione perché attraverso queste anime in ogni tempo, in ogni secolo, Gesù ha operato la salvezza delle armi. Quindi la passione di Gesù è ancora viva nella Chiesa ed è viva in questo evento dei battizzati che sentono questa speciale chiamata e vi rispondono con generosità, vi rispondono con la sofferenza della propria vita. Dopo il 9 giugno del 1985, Teresina dopo aver scritto questa preghiera di offerta dove dice, Signore, come dire Gesù, ecco, mi lascio condannare a morte perché voglio somigliare a te nel mistero della passione. Cominciò per me a parlare della sofferenza della tubercolosi che allora non c'erano gli mezzi di oggi per guarire e disse dal 1895 fino al 30 settembre del 1897, circa due anni, nell'infermeria, vivendo nel corpo, questo dolore della passione, queste stimmate d'amore che poi, secondo come Gesù stabilisce, in alcune diventano visibili e altre sono invisibili. Chiede quindi di poter soffrire con lui e per lui. Oggi ci sono sempre queste anime nascoste e sappiamo fino a qualche anno fa Natursa, che viveva proprio il mistero durante la quaresma della passione di Gesù. Sappiamo di persone laiche, mamme di famiglia, persone religiose. Noi abbiamo una monaca, Prato, però non è del secolo scorso, ma di qualche secolo passato, anche lei. E c'è proprio, spero di guarisciarmi, veramente di farlo con voi, questo cammino della passione che lei ha scritto dal giovedì del pomeriggio di Egezzemani fino al venerdì, sulla morte in croce, che lei come un figlio ha vissuto nel suo corpo e ha scritto tutto quello che avveniva negli ultimi tempi della vita di Gesù. Così come è successo anche a tre anni, Elisa di Uomani, Luisa di Capena e anche lì, anche lì, anche lì, la suoramma tedesca, che appunto ha avuto delle rivelazioni. Certo, forse anche oggi tra di noi nel mondo oggi ci saranno queste anime qualche una stella, qualche casa dove Gesù chiede a loro di soffrire e questi rispondono generosamente al dono della passione. Una cosa importante è non soffarsi di perché è vero che è una chiamata, non dico che è divina, perché sarebbe un'office a Dio, è una chiamata molto forte, che ha delle conseguenze molto straziante per l'anno, perché realmente partecipa ai dolori di Cristo, partecipa a quella sofferenza che noi non abbiamo idea di cosa significa quella sofferenza di Cristo. Gesù, ripeto, continua anche oggi il mistero della salvezza e della sua passione attraverso attraverso anime di Suo amici che si consacrano per questa missione, che si occupano questa missione come ha fatto in fondo nel 1295 Santa Teresina di Pormino a Gesù. Spero che voi possiate mettere nelle vostre preghiere anche un aiuto per queste anime che soffrono in silenzio, perché non è facile, non è una vita facile quando i corpi vengono morto di anni dalle sofferenze e anche le anime poi soffrono per l'oscurità della fede, insomma per tanti aspetti che il Signore permette, perché quella sofferenza purificazione, Lui la distribuisce, la distribuisce a tanti peccatori da salvare. E allora quell'anima è veramente una bella preziosa sotto gli occhi di Dio, perché Dio è un belanimo che gli ha dato la libertà rispondendo gli Suoi sì, manifesta tutta la sua sofferenza fisica e spirituale. E così, quando si dice anche nella liturgia, che Gesù soffre nelle membre della Sua Chiesa, la Chiesa siamo noi qualizzati, quindi Gesù soffre nelle nostre corpi, nelle nostre anime, se potesse trovare tante anime. Non è una vocazione di privilegio, non è una vocazione di elettro, è una vocazione alla santità, è una vocazione speciale a cui il Signore diciamo che chiama qualche anno a condividere più da vicino un tesoro Suo a cui Dio è geloso, quello di sapere, quello di volerci far condividere la Sua passione, il Suo venerdì santo. Allora adesso riflettiamo un po' qui sotto gli occhi di Gesù con un accompagnamento musicale e preghiamo per che Gesù possa suscitare ancora oggi nella Chiesa anime generose che rispondono, che rispondono al don della passione. E poi inizieremo questa nostra catichese proseguendo sul mistero, il mistero dell'animo, come impegnando. Allora adesso riflettiamo un po' qui sotto gli occhi di Gesù. a donare protagonisti qui literally su un po' qui sotto gli occhi di Gesù. Aspetta una fra l'animo, come impegnando, il giorno 6ro e il Signore sun mi acc нами orientate di Gesù è molto più vicine, gallante e il giorno 6ro 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 e il giorno 62ro, può sempre lavorare con n improve Ignorante del giorno 7ro e la pace dell'animo, agliado oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'amore eterno è che scelta nei nostri cuori e influisce nella nostra vita. Ha un'esigenza fondamentale. Osservare i comandamenti. Alla domanda del giovane dico del Vangelo, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Gesù risponde, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Viene in tal modo enunciato uno stretto regalo tra la vita eterna e l'obbedienza ai comandamenti di Dio. In realtà, l'osservanza dei comandamenti, il vivere, le norme che Gesù, che Dio ci ha dato, sono i comandamenti che cosa sono? È un'erania che Dio indica a noi per entrare nella vita eterna. Perché l'uomo del peccato ha perso ogni punto di riferimento di correttezza, ogni punto di riferimento di sanità umana e spirituale. E allora i comandamenti sono quella regola morale che ci porta ad entrare nella volontà di Dio, nell'adempimento della volontà di Dio nella nostra vita. Per questo motivo Gesù ripropone i comandamenti come condizioni di sanvezza. Giovanerino, va, vivi l'obbedienza ai miei comandamenti. In realtà dei dieci comandamenti si rispecchiano i trecenti fondamentali della legge da Giovanni. Le dieci parole sono i pilastri della nostra vita morale, quella vita morale che è scritta nel cuore dei uomini. Ora, ogni uomo che sia cristiano, musulmano, ebreo, buddista, ha come fondamento questo dono di Dio che si chiama legge naturale. c'è una predisposizione naturale a compiere il bene e non fare il male. Per cui, come vedete, la salvezza Dio la offre nella convinzione di cui l'uomo vive a tutta l'umanità. è chiaro se un amico nasce in un paese dove il cristianesimo non è praticato, non è stato diffuso e vive correttamente secondo quello che è lo spirito della sua legge naturale cioè quella sua interiorità che inclina anche a fare il bene Dio la salverà perché ha obbedito a quei dettagli che lo hanno elevato naturalmente dall'uomo vecchio verso l'uomo nuovo. Per questo motivo Gesù dice una parola molto importante per quel genere a chi è il tuo edago sarà richiesto di più per cui se noi cristiani baldezzati con il Vangelo i comandamenti e i nomi di Dio e quasi ecco lì anche li svespeggiamo nel piano servifico di Dio tra un anno che viene da una situazione di totale ignoranza della conoscenza di Dio ma ha vissuto però secondo la volontà di Dio perché ha obbedito a quegli impulsi quegli impulsi interiori del bene è ovvio che Dio lo accoglie in paradiso rispetto a quell'anno che invece avendo avuto tanti mezzi come nella Chiesa Cattolica e non li ha utilizzati bene e ovviamente tu Dio chiedi di più cosa ti hai fatto a quei talenti che ti ho dato cosa hai fatto di quella modazione che io ti avevo ti avevo ispirato nella tua vita di offrirmi di consacrarmi a me che non ne hai risposto ti avevo chiesto di vivere bene quella tua consacrazione matrimoniale quella tua consacrazione religiosa quella tua consacrazione anche a tua vita di preghiera come offerta per la salvezza di solle cariche del purgatorio perché alcune di noi abbiamo un compito nella Chiesa non tutto come noi Gesù ad alcuni si ispira una vocazione per quel mistero per cui e quei comandamenti sono proprio sono le indicazioni morali per vivere bene i dieci comandamenti quindi segnano la strada per una vita pienamente umana da queste dieci semplici parole dipende il futuro dell'uomo il futuro anche delle società dell'Europa del mondo perché se uno Stato una comunità una comunità civile uno Stato promulga delle leggi che non sono in conformità allo spirito degli insegnamenti di Dio di Gesù e odio che se in una società che purtroppo non mi è avvenuto è stato propulgato la legge dell'avvolto dell'eppanasia del De Volse e qui andiamo avanti più altre leggi e sono contro la natura di quello che Dio prospetta come felicità del mondo e chiamano questi popoli queste nazioni si precludono un futuro prospero e sereno perché se tutti i giorni lo Stato approva che si può ammazzare un bambino perché non lo vogliono gli obicini hanno un prezzo davanti a Dio per cui quando si escludono questi insegnamenti queste parole queste parole d'alma questa parola di Dio queste dieci parole di Dio dal cuore l'uomo diventa un anarchico l'uomo diventa un'anima ribelle un'anima che esce da ogni ovvinamento della divina volontà non siamo fuori proprio siamo con l'asse spirituale spostati dal mistero della salvezza e allora bisogna dire io so che la chiesa ha dei ministri che si occupano anche di evangelizzare proprio i cosiddetti dieci comandamenti per cui non è che voglio fare leci domandamenti ma in realtà quando queste queste parole vengono come vi dicevo messe da parte nel nostro cuore nelle nostre famiglie nella nostra società l'uomo e la famiglia non ha più un futuro perché l'egoismo l'odio la menzione costituiscono la base per la vita di distruzione sono i comandamenti che ci fanno guida che fanno guida l'uomo nel cammino verso l'umanità i comandamenti in primo luogo si si aprono soprattutto con due elementi importanti amare Dio sopra l'odio e l'amore per il nostro amare Dio mettere Dio al centro della nostra vita non è facile anche se lo diciamo ma io il Signore ti voglio bene il Signore lo amo però ci accorgiamo anche spesso nelle nostre scelte nelle nostre nella nostra quotidianità il Signore non occupa un posto principale non occupa un posto fondamentale nel nostro cuore perché la nostra umanità è ancora un po' confusa certamente amare Dio significa poi abbracciare l'amore di Dio dell'amare Dio si vivano anche tutti gli altri comandamenti perché quando si ama in cuore Dio si ama Dio la tipologia di rapporti cambia l'identità antropologica della persona cambia quando c'è l'amore di Dio l'uomo cambia non c'è nulla da fare si cambia nel pensare della gene nel parlare nel nel porsi anche nelle relazioni degli altri quando Dio ti prende sul serio del cuore quando Dio diventa il tuo padre quotidiano quando Dio diventa la tua il tuo fine ultimo ogni giorno non deve diventare un'ossessione ma deve diventare uno stile di vita il Signore ti fa cambiare e quello che noi poi diciamo la conversione no? è proprio questo questo nuovo modo di vivere la vita incentrata in Dio è chiaro che viene fatta con un desiderio di ricerca con uno sforzo ascenico dove io devo cercare di guardarmi dentro devo cercare di con umiltà accogliere anche le mie debolezze le mie paure le mie insicurezze no? tutto i miei difetti i miei pregi e devo orientare questo cammino di crescita ma se non ci si mette in discussione davanti a Dio e abbiamo sempre un po' la teologia della giustificazione nei confronti di Dio rischiamo veramente poi di rimanere vittima di un percorso che non ci fa crescere non ci fa conoscere Dio rimaniamo in una spiritualità che potrei chiamare un subrogato di spiritualità cioè quella parte che c'è ma non ha nessuna incisione nella vita di tutti di noi per questo allora l'osservanza dei comandamenti deve essere accorto alla parola di Dio e lasciarlo ogni giorno contenta di viverla a meno il desiderio poi ci accorgiamo nella nostra vita pratica che abbiamo ancora quella fragilità così forte che non ce la facciamo ricordiamo la prigliera ricordiamo il sacramento però almeno ci siamo prefissi di fare quella strada per crescere nel cammino di santità di mente ripeto rischiamo di girare appunto anche nel rapporto con Dio e vi permetto di dire proprio perché perché c'è questa tentazione nel mondo cristiano che oggi nonostante tutto siamo abbastanza un popolo veroso di cristiani ma comunque cristiani quale tipo di cristiani quale immagine di cristiani lo vediamo e quale amore noi immagini cristiani perché nei confronti di Cristo per noi spesso parliamo di cristiani sono possibilità sono possibilità di maggiormente in quelle zone dove dove purtroppo sono minoranza e sono di sconto perché ancora ci fa paura però nella nostra società occidentale io credo che i peggiori nemici di Cristo sono proprio cristiani perché non fanno un buon servizio alla Chiesa con il nostro egoismo con le nostre con il nostro modo di voler emergere voler fare chissà che cosa a volte roviniamo la stessa Chiesa l'amore ispira progetti di salvezza e si ridono in questo misterioso silenzio di offenda di donazione di compartecipazione di condivisione con il Signore e con a Lui luce un giorno su quelle persone che hanno saputo stare in quel silenzio d'amore offrendosi quotidianamente in un banchino d'amore per la salvezza non solo sua personale ma anche di tutte le anni poi l'amore comandamento dell'amore di Dio va rivisitato e va incarnato nella nostra vita va rivisto se allora poi riusciamo a incentrare bene il legame con Dio vivendo questo amore con Dio naturalmente anche il ruolo del prossimo cambia se ci leggiamo San Giovanni ci parliamo proprio di questi due amori verticali e orizzontali il cuore che ama Dio in un modo verticale il cuore che Dio ama il suo prossimo noi forse le cose che facciamo pensiamo di amare il prossimo a partire da noi ma noi non riusciamo a amare il prossimo quel prossimo che ci ha ferito quel prossimo che ci ha fatto di male quel prossimo che ci ha denigrando che ci ha uniliano noi possiamo amare il prossimo a partire dall'amore di Dio non sono io che riesco ad amare il prossimo e amando Dio io vedo altro come figlio di Dio che riesco ad amare a perdonare per l'amore di Dio ad accolver per l'amore di Dio e allora l'amore del prossimo ha una sua un suo senso il suo significato allora perché certe anime aggiorniamoci un po' solo perché certe anime come Santa Geresita del bambino Gesù una giovane fanciulla 23 anni poteva avere tanto dalla vita no? poteva sposarsi aveva molto la musica poteva essere una buona musicista come non fu anche Elisabetta della Lulevità che studia piano queste anche lei ha fatto la stessa scelta di Santa Geresita del bambino Gesù perché queste anime così giovani addirittura vengono ispirate a emettere un vuoto di offrirsi come vittima a Gesù delle schiagli i peccati delle armi del purgatore i peccati dei peccatori a chi gliel'avrebbe fatto fare a queste anime tanto loro ah io l'ho amato l'hanno amato no? se leggiamo la storia di un'anima vediamo come la vincola perché si era intratta delle cose del cielo e proprio quello è il punto fondamentale si sceglie perché nel mistero dell'anima che non si può spiegare a parola male quando Dio ti tocca il cuore la mente l'ama ti fa capire che ogni uomo che si perde è un dolore della morte perché Dio ci ha a tutti e vuole salvare tutti e allora quando si entra nella logica di Dio per quanto una persona ripeto che questo padre demorava una persona che diciamo che è tutto quello che succede no? umanamente ti vede voglia di chiudere la torta di di farlo in mano di corrispondere con il mano però se alla fine ti metti in Dio in preghiera tu pensi no? che anche quella persona nonostante che possa essere abitata dal male che ha fatto delle cattive è una persona che ha immagine e somiglianza di Dio e Dio nella sua vita gli dà la possibilità di poter salvare sperando che si converga poi se per serve fino alla fine della vita certamente arreba un dolore nel cuore di Dio perché un'anima si perde però Dio fino all'ultimo respiro cerca di salvare tutti i figli anche quello più più feroce possiamo dire no? e allora per questo Lui a noi ci chiede di amare il prossimo di accogliere il prossimo nell'amore di Dio naturalmente però ovvio che l'adore poi che la vita umana voi esseri salvati domani state ponendoli un cuore perché ci saranno situazioni anche molto dolorose all'interno delle famiglie che si sono rotte in apporti magari per motivi di interesse per motivi di parole dente contente per situazioni comprese non comprese stambiare facenti non della vita umana è naturale che poi si fa un discernimento di come puoi trovare una via giusta per rapportarsi con determinate storie ma la cosa è importante a noi non è che possiamo andare d'accordo con tutti in modo perché Gesù questo non ce lo chiede però che vanno quello che c'è nella vita divina un rispetto dicendo non la condividiamo nello stesso modo ma non spondi a massacranti sparlanti facendo dicendo non condivide questo tuo modo di fare ma quello rispetto quella condizione di civiltà del diavolo dell'amore che consente di purificare anche i rapporti umani da sì qualsiasi spessore di poesia di falsità di mezzogli il demono ci guazza molto durante i raccordi dell'amore del prossimo perché lui facendo lei una noce sulle nostre paure sulle nostre debolenze sulle nostre insicurezze ci ci insinua tanti pensieri e genera un grande caos confusione e a molte volte lui quando vede che soprattutto anche nelle comunità sia religiose di parrocchiali che si litiga è una foresta nozze che una vittoria maggiore si litiga nel Parlamento perché voi dice come sono uomini come non hanno un Dio non vivono di Dio vivono di certo un modo per il potere e l'interesse si litiga non gli fanno in causa di un prego ma quando avvengono delle liti all'interno di una comunità inglesiale quello è accoglio di più avrà una sua vittoria maggiore che dice vedi loro che credono loro che vanno bussare a te maestro vedi che cosa combinano vedi come è indicato con molta facilità e noi a loro dobbiamo fare proprio questo percorso di formazione che in termini ideologici viene chiamando cammino ascetico cammino di purificazione cammino cammino di crescita e ora che nessuno di noi è nato santo nessuno di noi è santo ma siamo in una continua crescita a meno come diceva l'opera la terrestre la grande teresina no signore io non ci metto tutti i miei pedi e ti dico questo per salire da te c'è una grande scala a voglia per me è faticoso però ti posso dire questo Gesù io metto il mio primo piede sul primo gallino poi abuso le braccia il resto fanno tu da lì nasce la spiritualità della luce dell'addornore il padre che apre le braccia e io mi getto tra le tue braccia come una piccola che non sono capaci di amarti come tu vuoi che io mi ami ecco allora quello che magari ci fosse no in ognuno di noi e spero che ci sia perché grazie a Dio ci sono anime che hanno scelto Gesù radicalmente e fanno questo cammino avendo questo desiderio desiderio di crescere questo desiderio di maturare per un cammino verso la santità per un cammino di trasfigurazione in Gesù attenzione fare questo cammino e non significa esporsi per dire beh ormai tutti mi venerano tutti mi assolutamente togliamoci anche da questa inventazione che il demonio purtroppo insinua delle anime un po' anche più fragili noi dobbiamo farci santi perché vogliamo stare con Dio e il resto non ci deve interessare di niente voglio stare con Dio Gesù in cielo abitare con Dio e il resto non mi interessa niente di chi mi conosce non mi conosce chi mi apprezzano non mi apprezzano e allora dobbiamo vedere come diceva Giovanni Paolo II questo amore per il prossimo il prossimo dice Giovanni Paolo II non è soltanto un essere umano con i suoi diritti e la sua fondamentale uguaglianza davanti a Dio ma come dicevo prima il mio prossimo è l'immagine diva di Dio Padre che è stata riscattata da Gesù nel suo Sanve esposta sotto l'azione permanente dello Spirito Santo noi in genere vogliamo contemplare la Dio ma la Dio la possiamo contemplare anche del fratello che è vicino a noi come ci ha detto Giovanni Paolo II in conseguenza egli deve essere amato anche se negrino con lo stesso amore con cui lo ama il Signore lo ama il Signore per lui dice Giovanni Paolo II bisogna essere disposti al sacrificio anche supremo e viene in mente Massimiliano Conte un sacrificio per un uomo per salvare un uomo che non conosceva solo perché sapeva che era un papà di famiglia che lo voleva dare alla famiglia e che tornò la prima apposto su Massimiliano Conte che naturalmente quello mantiglio quel sacrificio non è nascito così come un fungo nasce lo scolore per Maria ora sapete non Massimiliano Conte è ma era innamorato di una colonna e una donna dico oggi penso che lo possiamo dire ad alta voce nei campi di Aschovitz ha operato una grande attraverso queste anime nascoste che erano in quel luogo di sua inerenza Massimiliano Conte e gli stanno Bonet teologo protestante ma è assicuro una grande anima di te a una donna dove c'è la sofferenza suscita vocazione per la donazione all'amore e nella passione del tuo figlio perché lei la passione ce l'ha nel cuore quindi questo sacrificio supremo dove dice Giovanni una prima lettera darne la vita per i propri prebetti così la carità cristiana non è semplicemente manifestazione di una solidarietà umana la carità cristiana non è il buonismo nostro noi vedete anche nell'apporto dell'aiuto a vedere le cose dobbiamo dirci lo sbagliamo perché con quei pochi centesimi le cose non facciamo servizio a nessuno una vera realità è soprattutto che io mi occupo per la salvezza della tua vita e partecipazione allo stesso amore di me allora quando vi capita non che uno ti invita ad affarti un'alleanza per andare contro quello vedete quando si sceglie di amare Dio in un modo corretto giusto equilibrato purtroppo come è fatto la logica del mondo fuori si rischia di stare soli vi allontanano tutti però è meglio scegliere la croce della salvezza che fare alleanze con tanta gente che ti induce a peccare parlare male di questo fare pianificare qualcosa contro quell'altro quindi la scelta in tutta vita cristiana è una scelta diciamo che stiamo soli per lo soli fino a certo punto perché con noi c'è Gesù c'è Madonna per cui l'amore cristiano è un amore universale cioè non circoscritto al federe di Sanque e di fede ma aperto a tutti anche i peccatori Giovanni Paolo II ci invita proprio questo amare accogliere in modo particolare i peccatori noi siamo alla vigilia alla vigilia anche della festa di Romani che domenica ma celebri il 160esimo anno della prima apparizione di Lourdes e vi permetto anche qui di nominare una piccola ragazza di Lourdes anche lei quasi francese come Teresina anche lei si vede questa donna che le appare e gli chiede di dare la sua vita per la conversione dei peccatori voi sapete voi sapete che però lei giustamente ha chiesto alla Madonna ha detto Madre Santa ma chi sono i peccatori perché qui davanti a me è continuo vedo attorno a me un continuo una continua ribellione nei confronti di Dio perché il momento in cui ha vissuto per la lettera non era più uomo di oggi a peggio di per la lettera c'era l'illuminismo di esaltazione della ragione c'era quindi questa avversione contro Dio perché l'uomo con le sue ricerche e indagini scientifiche pensava di distruggere l'uomo il sovrannaturale e la Madonna glielo spiego con queste parole i peccatori non sono coloro che fanno il male ma coloro che hanno il male sono coloro che lo fanno deliberatamente non solo coloro che fanno il male noi forse ci potremmo rispecchiare in questa linea di peccatori che con tutto lo sforzo di voler camminare nella santità però facciamo l'esperienza di un peccato come appunto anche la la sagra scrittura lo dice giusto pecca sette volte al giorno quindi non c'è nessun altro che ogni giorno che passa non pecca però naturalmente ecco veniamo a scritti in un contesto di peccatori dove facciamo un peccoso ma la Madonna chiede a venerdè di darle la sua vita per coloro che hanno fatto una scelta come gli amici noi magari abbiamo fatto la scelta del Cristo la scelta dell'amore ci sono anche altri che fanno scelte di consacrazione al male e voi lo sapete a che cosa mi riferisco e sono quelli che poi distribuiscono nel mondo progetti di morte progetti di annientamento della umanità e della stessa chiesa e per l'amore che aveva intuito quello che la madre le chiedeva la madre celeste le chiedeva ha detto di sì sapendo che le aspettavano calvare lei ha detto il suo sì non per una gloria non per crearsi la medialicità possiamo dire attorno a sé il mondo mediale poi ha scelto che ha scelto la sua benedizione la sua Nazare Sirenesio e dove ha cominciato a salire incappare nella malattia perseguizione della sorella che era l'interno del monastero ma tutto vissuto dell'offenza in una condivisione della passione di Gesù e la salvezza dei peccatori quindi per l'aterno non è grande perché ha visto la Madonna al mondo perché ha fatto scorrere la sua gente tutte cose che sappiamo vogliare significato spirituale e viso e biologico ha fidato un grande conno a Maria di aiutarci in questo tempo spirituale che come 150 anni fa anche oggi è un tempo possiamo dire più che che scientifico oggi tecnologico ma devastante perché è privo di spiritualità è un processo tecnologico che si è sfogliato di un vestito morale se questo sviluppo tecnologico si fosse rivestito delle virtù morale oggi saremmo dei popoli più felici della terra ma siccome andiamo usati progressi svilettrono nella moralità e nella spiritualità si è rivelato a tutti una macchina di cuore e a tutti si è ritornata facendo una riduzione contro il cuore per cui diciamo ecco come la Madonna però anche in questo nostro tempo sta facendo la sua pianificazione strategica per poterci salvare e quindi vi dicevo allora questa donazione di una vita per una salvezza di persone che questa povera figlia non avrebbe mai vista nella sua vita ma per la guerra ha detto di sì e ci auguriamo come vi dicevo anche prima che molte anni possano cominciare a pensare in questo modo un amore che si estende ad ogni confine di amore che abbraccia peccatori nemici e stranieri è un amore che non si viva i ben fattori ma si estende e cura chi non lo apprezza e non lo ricambia in ciascuno soprattutto se è povero deboli sofferente ingiustamente trattato la carità sa scoprire molto di Cristo è un fratello da amare e da servire ecco allora oggi abbiamo voluto proprio fare questa considerazione della nostra conversione che deve nascere soprattutto da questo legame del nostro amore per Dio e con i prossimi l'amore per il Signore l'amore per il prossimo possiamo riflettere un momento insieme con il sottofondo così all'inizio individuare un po' dentro di noi quelle dinamiche da aggiustare un po' davanti del Signore noi abbiamo siamo in un tempo in cui possiamo ancora raffrederci non facciamo i ragionamenti diciamo ho adesso la mia età oppure ho fatto la mia scena la vita dell'anima non corrisponde alla vita corporale e salvare l'anima fino all'ultimo giorno c'è la possibilità che Dio lo possa fare se ci confermiamo però se Dio me lo chiede oggi di cambiare non posso dire adesso Signore sono che ci seguono e faccio ancora poi le cose che mi confermano e poi ci ritorniamo non ragioniamo con la mentalità la parma con Dio e rischieremo poi di dipendire di scendere allora davanti a Gesù che è qui esposto cerchiamo proprio di di riprendere un po' su questi due comandamenti anche quello del prossimo l'amore del prossimo compassione misericordia signora Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.